E' stata presentata ieri l'undicesima edizione del Giffoni Teatro, chermesso organizzata dall'omonima associazione che si tiene all'interno della Sala Truffaut della Cittadella del Cinema di Giffoni, Vallepiana. Il sipario si aprirà martedì 27 novembre con il Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show. I due attori torneranno insieme sul palco dopo 15 anni in uno show di cui sono interpreti e autori. A seguire abbiamo in serie località con Lello Arena il 19 di dicembre. Dopo la pausa natalizia, il 17 di gennaio, proporremo Gennaro Callaracciolo e il Novecento Napletano. Un nuovo allestimento che vedrà appunto in scena 50 artisti che ci rappresenteranno tutte le caratteristiche della musica, della canzone, ma anche della tradizione napoletana del Novecento Napoli. Dopo, a fine gennaio, Nicola Pistoia, Gianni Ferrero, Marcos Pissio e Daniele Bruggia in Casalinghi Disperati per la regia di Diego Ruiz. A febbraio, Paola Gassman con tutte a casa e poi l'appuntamento di marzo vedrà Carlo Bucci Rosso in Pomi della Discordia. E a conclusione, ad aprile, Vittoria Belvedere, Maria Grazia Cuscinotte, Michele Andreozzi, figlie di Eva.